Entro il 2055 in pensione a 70 anni, già dal 2029 si andrà a 67 e 10 mesi, le proiezioni. Ogni due anni è previsto l'adeguamento dei requisiti pensionistici, legato all'invecchiamento della popolazione e allo sviluppo della speranza di vita oltre i 65 anni. Nuove proiezioni indicano un aumento dell'età pensionabile a 67 anni e 3 mesi dal 2027, superando le precedenti stime che prevedevano un incremento minore nel 2029. Le previsioni si basano su uno scenario Istat che include il calo demografico e l'aumento della speranza di vita. Secondo tali proiezioni entro il 2055 si andrà in pensione a 69 anni e 10 mesi.